Grazie, sul podio. Prego. Signor Presidente della Repubblica, Pegnagneto, caro Enrique, autorità tutte, siamo davvero felici di darti e darvi il benvenuto. Il benvenuto a Milano, dopo l'appuntamento dell'Expo, il benvenuto che amabilmente ti ha già offerto il Presidente Aragona all'interno dell'ISPI, uno dei luoghi simbolo della discussione politica per l'intero Paese, non soltanto per l'Italia, ma anche uno dei palazzi storici tra i più affascinanti di questa città, che, lo dico ai milanesi, il Presidente Pegnagneto intende visitare ancora per qualche ora prima di recarsi nel corso della giornata a Roma, dove avrà la prosecuzione della visita di Stato, l'appuntamento con la FAO, l'appuntamento con il Presidente della Repubblica che chiuderemo con un bilaterale lunedì a Palazzo Chigi. Un benvenuto al Ministro Gaillardo, un benvenuto al Ministro Guidi, naturalmente che, come ovvio, è di casa, al Presidente del Business Forum per parte messicana Pons, al Presidente Tronchetti Provera. Potremmo dire tante cose, in modo formale, molto burocratico, molto serioso, ma c'è un punto chiave, che si può dire anche in modo molto esplicito. In questo momento storico il mondo cambia a un ritmo impressionante, cambia a una velocità straordinaria. Il mondo di oggi segna traguardi che non si misurano più nell'arco di decenni, ma nell'arco di settimane, giorni. C'è bisogno, allora, se vogliamo essere competitivi e capaci di crescere, di non pensare che si possa restare ostaggi della cultura della lamentazione, di quelli che sanno solo piangere e rimpiangere le occasioni perdute, ma bisogna, forti delle proprie radici, avere il coraggio di spiccare il volo. È quello che il Messico sta facendo sotto la leadership, sotto la guida del Presidente Peña Nieto. Ed è quello che anche noi abbiamo fatto, ma possiamo e dobbiamo fare di più. Possiamo e dobbiamo fare di più perché l'Italia ha tutte le condizioni per poter affrontare da protagonista la nuova fase dell'economia globale che si sta aprendo. E voi, imprese italiane che siete forti in Messico o che avete intenzione di investire in Messico, lo sapete perfettamente. Lo sapete perfettamente perché in questi ultimi anni le imprese italiane in Messico sono diventate 1.400, di cui circa 350 in modo strutturato. E circa un centinaio hanno uno stabilimento produttivo in quel Paese. Il Business Forum dunque si colloca in un momento straordinariamente interessante. Se ci pensate, dal 2006 ad oggi il ritmo di crescita delle esportazioni italiane verso il Messico è diventato superiore a quello di alcuni Paesi, pure tra i principali che noi siamo abituati a conoscere. Il grado di crescita che c'è stato è uno dei più interessanti a livello globale, però dobbiamo fare qualcosa in più. E allora la visita del Presidente Pegnagneto, la visita di Enrico è molto importante. Noi ci siamo confrontati durante il Summit del G20 a Brisbane nello scorso novembre su un modello di sviluppo che deve essere incentrato sulla crescita. E noi pure sappiamo in Europa quanto forti siano i rischi e i tentativi di non parlare di crescita, ma soltanto di austerity e rigore e non essere capaci di cogliere la fase che si sta aprendo della politica economica mondiale. Ci siamo confrontati a lungo, con Enrico abbiamo discusso, oggi i nostri Paesi sanno perfettamente che se vuoi stare sul mercato, se vuoi essere competitivo, se vuoi essere capace di costruire il futuro, devi essere in grado di fare le riforme, devi essere in grado di farle veloci e devi sapere che prendere e scegliere il tempo giusto non è una possibilità, è un dovere. Se noi perdiamo questa occasione, perdiamo l'occasione di essere noi stessi. E allora da questo punto di vista credo che sia per noi fondamentale che le frequenti missioni che ci sono state in questi anni e in questi mesi, sia con il nostro governo che con i governi precedenti, possano essere oggi caratterizzate da un grande invito alle aziende messicane a venire a investire in Italia. Stiamo cambiando molte delle regole del gioco, stiamo semplificando il mercato del lavoro. Ieri abbiamo approvato gli ultimi decreti attuativi del Jobs Act, sono molto felice di vedere i numeri, i dati di fatto, perché poi sono tutte discussioni astratte quelle che si fanno, ma quando vedi che dopo la crisi di un milione di posti di lavoro persi, poco meno di un milione di posti di lavoro, in appena qualche mese si torna a crescere di oltre 200 mila nuovi lavori, significa che c'è voglia di costruire e di immaginare il futuro. La settimana prossima sarà la volta dei decreti attuativi della delega fiscale e nei prossimi mesi ha sprombattuto sui cantieri ancora aperti della pubblica amministrazione, della giustizia civile e poi di quello che realmente serve a un paese che cambia, cioè la scuola, la cultura, l'educazione. Allo stesso modo, se voi pensate al Messico, pensate a un paese che è ricco di passato. Quanta bellezza, quanta gioia esce dagli occhi di chi vede il Messico. Anche semplicemente, do un consiglio per gli acquisti, del video del padiglione messicano all'Expo, che abbiamo appena visitato con il Presidente Peña Nieto. Un paese così ricco di bellezza e multiforme nelle sue opportunità, ma un paese che ha saputo con la leadership di Enrique di investire in riforme strutturali capaci di dare un passaggio alla speranza. Perché poi il vero problema nostro è che in Italia siamo troppo spesso concentrati su tutto ciò che non va. Che è normale, comprensibile, ci sono molte cose che non vanno e guai a chi le sottovaluta, guai a chi fa finta di evitare che ci siano i problemi. Ma arriva il momento in cui i problemi vanno affrontati e risolti. E allora io trovo importante che le imprese che sono qui presenti e che stanno pensando di investire in Messico avvertano, Federica lo sa bene, la possibilità di agganciarsi al piano straordinario per la promozione del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti, che è stato già messo in legge di stabilità e che per i prossimi tre anni sosterrà le nostre aziende, con un focus particolare sul mercato nafta. Voi sapete che mai come in questo momento il mercato dell'America centrale, dell'America del Nord, è il mercato ovviamente numero uno per le aziende italiane. Noi siamo sicuri contemporaneamente che la classe media messicana, che cresce costantemente per effetto delle riforme, potrà sempre più essere attratta dai nostri prodotti. Però occorre anche che le aziende che vogliono lavorare siano nelle condizioni di portare su di sé non soltanto il valore della propria esperienza, del proprio know-how, ma anche il valore della bellezza dell'experience in Italia. Credo che questo sia il punto chiave della ripartenza. Noi dobbiamo tornare a credere che l'Italia ce la può fare. E dall'altro lato, lasciatemelo dire, amici messicani, noi vi aspettiamo in Italia. Noi stiamo costruendo un sistema, scherzavamo prima, ho detto che stiamo costruendo un sistema fiscale più semplice. Il commento medio è stato più complicato sarebbe difficile. Ma è esattamente quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di aprirsi al mondo. Se ci pensate, sono in tanti oggi che vedono nell'apertura del mercato mondiale un problema. Per anni in Italia si è detto che la globalizzazione fa paura. La globalizzazione è un problema, la globalizzazione è il nemico. Il Messico, compagna Nieto, e l'Italia con il vostro lavoro, care amiche, amici, imprenditori che avete voglia di investire in Messico, sta dimostrando che la globalizzazione non è il fantasma. Ci sono politici che vi invitano sempre a inseguire i fantasmi di turno. La globalizzazione è la più grande opportunità che noi abbiamo per portare la bellezza del made in Italy nel mondo e anche per aprirci alla curiosità, agli scambi. Allora, in bocca al lupo, a chi vorrà investire in Messico, lasciatemi dire che oggi sono particolarmente sorpreso perché durante il Business Council, non dirò chi, un imprenditore messicano, non lo citerò per evitare di rovinargli la carriera, ha citato Amerigo Vespucci, che è il, citandolo come fiorentino, quindi voi potete capire che c'è un qualche elemento di orgoglio, che ha dato il nome all'America, che non ha scoperto l'America, quello è stato un genovese, ma che ha avuto la volontà e in qualche modo la curiosità di dare un nome al futuro, che è poi la vera sfida che ciascuno di noi deve avere, ma soprattutto il Presidente Pegnianeto, quando mi ha raccontato, e poi l'ha detto pubblicamente, tutto il valore delle difficoltà, ma anche della bellezza della sua sfida riformatrice, mi ha citato il capitolo 6 del Principe di Machiavelli, sostenendo, come tutti voi sapete, e qui lo dico al Presidente Aragona, perché l'Istituto che egli presiede è davvero un faro e un punto di riferimento per tutti coloro i quali credono nella politica internazionale e più in generale, quindi nel senso della missione di un popolo, la politica internazionale è questo, beh, citare Machiavelli è il segno evidente che dobbiamo dotarci di quella cultura che ha le radici nel nostro passato, ma anche di quella volontà di futuro che voi imprenditori conoscete bene. Allora, siamo due grandi paesi, abbiamo due grandi storie, ma quello che più conta è che se facciamo tutto ciò che dobbiamo fare, se smettiamo di lamentarci e proviamo a costruire il futuro, se facciamo qualche polemica in meno, e anche noi italiani, perché talvolta siamo stati più bravi noi a dormire dei messicani, la siesta l'abbiamo fatta noi, per un po' troppi anni noi abbiamo fatto la siesta, invece che fare la riforma ci siamo messi da una parte, se faremo quello che dobbiamo fare prendendo spunto dal coraggio che sta dimostrando il Messico e avendo la voglia di investire nel domani, io credo che il nostro futuro sarà all'altezza del nostro passato e per questo motivo, con la gioia e l'orgoglio di rappresentare il nostro Paese, do il più caldo benvenuto al Presidente Enrique Pegnagneto e gli dico che essere qui a Milano oggi significa essere in una città capace di grinta, di capacità, di innovazione, di cultura, di design, di tecnologia, di operosità, ma una città soprattutto desiderosa di costruire il futuro. Benvenuto Enrique, grazie per essere con noi. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.